eh non puoi fare niente eh vuoi che è santino l'aria così, mano ah al marino, tolgo la bindella, scendete e salite neanche stanno i busti stai facendo così oh eh ma non riuscire sì ma forse da lì a qua si può provare se la scaviamo un pochino dopo salti suori da lì? sì, se la stacchi riusciamo forse a sì sì ma lo so su qua la preferisco perché così sgarlo vai Sergio che l'ho scavata un po' no l'ho scavata qua qua qui da qua ti ribalti lo stesso eh qui sotto eh qui sotto eh se vado giù cado giù sì sì fidati perché appena atterri e molle sotto poi la mia è più bassa tocca la coppa e ti ribalta di là no se ne raccoglio vai 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 prova sembra facile ma che bello di skate guarda che tipo è quella più facile eh Grazie a tutti. Almeno fa il cinema. Sì, salta come prima. Sergio! Sì, salta come fuori. 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 Salta come fuori. Sì, salta come fuori. Capitan. Sì, salta come fuori. Sì, salta come fuori. Sì, salta come fuori. Salta come fuori. Sì, salta come fuori. Salta come fuori. Si, salta come fuori. è lo ruzzo bruza bruza è spenta è allora inutile iscriviti buongiorno l'anno prossimo vi promettiamo che mettiamo gli ostacoli mettiamo quello che è il vero triad questo qua non è il vero triad se volete andare a guardare su motoclub i leoni su youtube trovate tutti i video ce ne sono su 9.000 quindi penso che ne avete da guardare all'infinito però l'anno prossimo, quest'anno siamo arrivati troppo all'ultimo momento l'anno prossimo mettiamo i tubi, i tronchi, le macchine vediamo cosa fare promesso da qua è un parato quasi chi ce l'ha? chi ce l'ha? chi ce l'ha? ah avrà portato qua il nonno è parcheggiato è parcheggiato è proprio qua tutto il nonno ah pure Sì Non gli piace più